Buon inizio di settimana, bentornati. Lunedì 30 novembre, le notizie di questo fine settimana. Verso le 7.30 una donna è uscita di strada con una Renault Clio lungo la strada comunale di San Silvestro, questa mattina all'altezza del ristorante La Freccia Azzurra. La donna, 56 anni, di origine argentina, residente ad Ostra, è stata soccorsa dai mezzi inviati sul posto dalla centrale operativa del 118. È stata portata in heliambulanza a torrette e grave, ma non in pericolo di vita. È stata liberata dai vigili del fuoco che hanno tagliato il tetto dell'auto. I commercianti del centro storico senigalliese testano le vendite di Natale. La notte shop di sabato sera e l'accensione delle luminarie hanno creato un clima generale di festa. È stato un bilancio tutto sommato positivo quello delle prime due giornate di shopping immerse nelle suggestive atmosfere natalizie. Il 25 novembre, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la senatrice Silvana Amati ha partecipato alla presentazione del libro Via Crucis fuori stagione di Max Fanelli e alla proiezione del cortometraggio Un occhio sul mondo di Luca Pagliari, organizzate dall'associazione Io sto con Max. Come migliaia di cittadini mi sento, dice l'Amati, di sostenere la sua battaglia affinché venga calendarizzata la legge d'iniziativa popolare sul fine vita che giace in Parlamento dal 13 dicembre 2013. Sono intervenuti anche Stefano Rodotà, Beatrice Brignone, Paolo Manoni e Massimiliano Giacchella. Max Fanelli ha potuto partecipare all'iniziativa in videoconferenza. Anteprima nazionale per il Teatro La Fenice di Senigallia del musical Sister Act. Sabato 5, domenica 6 dicembre per la regia di Saverio Marconi. Abbiamo incontrato Pino Stravioli che interpreta il ruolo di Monsignor O'Ara. Prevalentemente faccio la televisione in questi ultimi anni di teatro, ne ho fatto molto ma non avevo mai fatto il musical. Per cui per me è proprio emozionante questo, l'idea di stare in un genere così incredibile perché rispetto al teatro che io sono abituato a fare, che è un teatro di parola, è un teatro semplice, il musical è i ballerini, i cantanti, le scene che cambiano, le luci, per cui è una festa, è un'allegria assoluta. E poi il richiamo di Saverio Marconi che insomma è il re, è il maestro del musical in Italia, tanto che io nei miei primi ricordi teatrali c'è proprio un suo spettacolo, uno spettacolo della Compagnia dell'Arancia, la piccola Bottega degli Orrori, poi Vidi Gris, insomma tutti gli spettacoli della compagnia, per cui ho sempre seguito la compagnia e per i colleghi e per Saverio Marconi e quindi quando mi hanno detto faresti il Monsignore, il quale non balla, non canta, ha delle scene molto carine, molto divertenti, recita per cui ho detto perché no. E poi ogni tanto anche se abbiamo una telecamera davanti, allontanarsi dalla televisione fa bene. E' una grande emozione e poi sono un po' disabituato, adesso stavamo facendo le prove, a un certo punto io dovevo rientrare, ma ero dimenticato, ero lì a guardare loro che cantavano, ero diventato spettatore, avevo dimenticato di essere il Monsignore, quindi mi hanno spinto, entra, tocca a te, per cui è come un giostro, sono come un bambino che sta alle giostre, in questa grande giostra divertente che è il musical, per cui perché no, però dovrei studiare danza, dovrei cantare, per cui la vedo dura, ma contento di quello che faccio. Lo sport, calcio, finisce 1-1 la trasferta della Vigor Senigallia-Trodica di Morrovalle, dodicesima giornata di eccellenza. La Vigor resta ultima in classifica, ma raggiunge a 7 punti il Corridonia, sconfitto dalla Biagio Nazaro. Prossimo turno, altra sfida salvezza contro l'Elvia Recina. Pallavolo, due grandi prestazioni per Max Controlle punto più, ma una sola vittoria, quella delle ragazze che nel big match della Serie D femminile travolgono l'Adriatica Fano con un nettissimo 3-0. Ha giocato benissimo anche la Max Controll sul campo del fortissimo Falconara, capolista della Serie C maschile, ma alla fine è arrivata la sconfitta per 3-1 al termine di un match burrascoso anche dal punto di vista disciplinare. La pallacanestro, reduce da tre sconfitte consecutive, la pallacanestro Senigallia batte in casa l'ultima in classifica, la Virtus Valmontone, finisce 83-78. l'intervista di Nicolò Scocchera. La storia è fondamentale, fondamentale perché abbiamo giocato una buona partita e la stavamo perdendo, la stavamo perdendo, più meritatamente, siamo davanti qua sempre, a parte di tre minuti, giocando di qualche bene, non abbiamo chiuso i momenti qui, le condizioni del tempo di martedì primo dicembre sulle Marche, cielo sereno o poco coperto, assenti le precipitazioni, venti da molto deboli a deboli dai quadranti occidentali, temperature in spiccata crescita, specie nei valori massimi, previsioni elaborate da Assam. È tutto anche per oggi, grazie per averci seguito, l'appuntamento, come sapete, per l'edizione di domani, vi aspetto. Grazie a tutti.